Sviluppare nei giovani intraprendenza e di imprenditorialità in ottica, etica, sociale e sostenibile è con questo obiettivo che è nata da Rezzo l'Ethic Academy alla quale prenderanno parte 16 studenti. Perché mi trovo bene con i giovani e capisco che il futuro è loro e credo di fare il meglio che posso per innamorarli. Sì, innamorarli non certamente di me ma al loro lavoro, al nostro territorio e fare in modo che sentano che qui abbiamo una cultura grandiosa. In 52 anni non sono mai voluto andare all'estero a portare sedi all'estero per il lavoro mio proprio perché credo che la cultura che abbiamo è enorme. Si tratta di un progetto ideato e voluto dalla fondazione Mona Lisa Ollus assieme al consorzio Arezzo Fashion, al convitto nazionale di Arezzo e ai licei annessi. Non è una scuola che accompagna i giovani soltanto al diploma ma si preoccupa anche di quello che è il futuro post-diploma creando una sorta di master che possa permettere loro di inserire poi nel mondo del lavoro, di inserirsi e quindi di mettere a frutto tutto ciò che hanno imparato ed esperito in questi anni. E quindi devo dire che anche questo è un modello abbastanza unico nel panorama formativo italiano. A sostenere il progetto UbiBanca che metterà a disposizione i propri specialisti. Il nostro ruolo sarà quello di mettere nella didattica le nostre competenze sulla modalità di dialogo che i giovani imprenditori devono avere nei confronti della banca e come la banca vede i loro modelli di business avendo la possibilità di una competenza sull'intero territorio nazionale, su tanti settori, su tante aziende che presentano molti fattori di successo ma anche su delle aziende che presentano fattori critici. Il percorso prevede dopo le elezioni frontali in aula uno stage nelle aziende che sostengono il progetto. Spero, perché non posso parlare per le 11 aziende, ma spero che vedendo questi primi risultati qualche azienda comincia a chiedere. Comunque staremo vicini ai giovani come i nostri pupilli.